Ciao a tutti lettrici e lettori, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi è l'ultimo giorno del mese e quindi è il momento di dare spazio a IndieBooks, il progetto ideato da Eleonora del canale Mistortellino, che si pone come obiettivo di dare maggiore visibilità alle case editrici indipendenti. Ogni mese si sceglie una casa editrice indipendente diversa e ciascuno sul suo canale YouTube o sulla sua pagina Instagram recensisce un libro pubblicato proprio da quella casa editrice. La casa editrice scelta per il mese di agosto è Edizioni.io, una delle mie case editrici preferite e di conseguenza non vedevo l'ora di girare questo video. Edizioni.io nasce nel 1979 come una piccola azienda a conduzione familiare. Successivamente comincia però a collaborare con importanti scrittori ed intellettuali con l'obiettivo di abbattere barriere, costruire ponti, allargare orizzonti grazie alla scrittura, grazie alla letteratura, alla cultura. Il nome della casa editrice E.O. sta proprio per E oppure o anche per Est-Ovest e il simbolo della casa editrice è una cicogna, vale a dire un uccello migratore. Inizialmente Edizioni.io si occupa di pubblicare soprattutto scrittori provenienti dall'Est Europa ma in seguito ha allargato decisamente il proprio raggio d'azione e ad oggi Edizioni.io pubblica scrittori provenienti dall'Europa, dagli Stati Uniti, dalle Americhe, dall'Africa e anche dall'Estremo Oriente. Vi dicevo prima che Edizioni.io è una delle mie case editrici preferite trovo che il loro catalogo sia ricchissimo di proposte interessanti e mi piace anche moltissimo la veste grafica dei loro volumi. Vi invito quindi a maggior ragione ad andare a recuperare i video pubblicati dagli altri youtuber. Vi lascio qui sotto nell'info box i link ai canali che appunto questo mese hanno aderito al progetto insieme ai titoli dei rispettivi romanzi recensiti. Per il video di oggi io vi parlo di un libro che mi è piaciuto tantissimo. È un libro che avevo già in libreria e che desideravo leggere da tempo ma ho aspettato appositamente quest'occasione per leggerlo e parlarvene e sto parlando di Medea di Christa Wolf. Medea di Christa Wolf non è altro che una riscrittura del mito di Medea. Il mito di Medea è uno dei più interessanti, è uno dei più controversi di tutta la mitologia greca, di tutta la mitologia classica. Medea è la figlia del re della Colchide ed è innanzitutto una maga, una fattucchiera, una guaritrice oltre che una donna bellissima, seducente e intelligente, affascinante. Il padre di Medea è il custode del vello d'oro e quando gli argonauti guidati da Giasone arrivano nella Colchide, giungono nella Colchide e pretendono di impossessarsi del vello d'oro, il padre di Medea accetta di cedere loro il vello a patto che Giasone si sottoponga a delle prove mortali, delle prove difficilissime. Medea che si è innamorata perdutamente a prima vista di Giasone decide di aiutarlo a conquistare il vello d'oro grazie all'uso della magia. Effettivamente Giasone riesce ad impossessarsi del vello d'oro e Medea decide di fuggire con lui, di salire sulla nave Argo e di lasciare la Colchide. Per evitare che il padre possa raggiungerli, Medea uccide il fratello, lo fa a pezzi e getta i suoi resti in mare, di modo tale che il padre, addolorato per la perdita del figlio e nel tentativo di recuperare i suoi resti, non riesca a raggiungere Argo e quindi Medea e gli argonauti possano fuggire indisturbati dalla Colchide. Quando Medea e Giasone arrivano a Corinto, Medea ha già dato alla luce due bambini, due maschi. La coppia inizialmente viene accolta favorevolmente a palazzo dal re di Corinto, Creonte. Successivamente però Medea viene allontanata dalla corte, di fatto Medea è una straniera. I corinzi considerano i Colchi come dei barbari e l'obiettivo di Creonte è quello di dare in sposa la figlia Glauce a Giasone. Giasone, ovviamente allettato dalla possibilità di poter sposare la principessa di Corinto e un giorno poter diventare il re di Corinto, decide di ripudiare Medea che per vendicarsi a questo punto e per impedire a Giasone di essere felice, decide di far uccidere di uccidere Glauce, quindi la novella sposa e soprattutto compie un'efferata vendetta, vale a dire uccide i suoi stessi figli. La versione più conosciuta del mito di Medea è quella che ci è stata tramandata dalla tragedia di Euripide e come vi dicevo prima la figura di Medea è una figura molto controversa perché è sì una donna intelligente, colta, affascinante, bellissima ma è anche una donna capace di atti di efferata crudeltà, è una donna capace di fare a pezzi il fratello pur di riuscire a fuggire dalla Colchide, è una donna che pur di vendicarsi è disposta addirittura ad uccidere i suoi stessi figli. In questo romanzo Medea voci, Christa Wolf cerca di riabilitare la figura di Medea attingendo ad una tradizione diversa del mito rispetto al racconto di Euripide. In questo romanzo, come vi dicevo, la figura di Medea viene completamente ridisegnata. Medea qui si configura come una vera e propria vittima, non è Medea ad uccidere il fratello, a fare a pezzi il fratello, non è Medea a far uccidere Glauce e non è Medea ad uccidere i suoi figli. Quindi il mito di Medea viene completamente riscritto, anzi addirittura a Corinto Medea verrà a conoscenza, scoprirà un segreto molto pericoloso che i corinzi invece non vogliono assolutamente che venga alla luce e di conseguenza la storia viene completamente riscritta. O meglio, gli eventi restano gli stessi, ma la posizione e il ruolo dei personaggi cambia radicalmente. Quali sono i temi che vengono affrontati in questo romanzo? Innanzitutto vi è il tema della diffidenza che i corinzi nutrono nei confronti degli stranieri, nei confronti dei colchi. Inizialmente quando Medea e i colchi che sono fuggiti con lei arrivano a Corinto, i corinzi li accolgono favorevolmente. Medea viene accolta a corte perché i corinzi subiscono un po' il fascino della novità. Ma passato il fascino della novità, i corinzi assumono un atteggiamento di superiorità e di diffidenza nei confronti dei colchi che comunque hanno una cultura diversa, delle usanze diverse che agli occhi dei corinzi sono barbare e rozze. I corinzi considerano i colchi rozzi, si stupiscono del fatto che il re dei colchi viva in un palazzo fatto di legno, si stupiscono del modo in cui i colchi si prendono cura dei loro morti e diffidano del rapporto molto stretto che i colchi hanno con la natura, con gli animali per esempio. I corinzi invece ritengono di essere maggiormente civilizzati, la loro cultura è decisamente più evoluta, ai loro occhi più raffinata e di conseguenza si sentono superiori ai colchi, quindi non c'è mai una completa integrazione. I colchi restano sempre una minoranza e sono costretti a vivere in un quartiere che è praticamente un ghetto, isolati, senza che ci sia mai una mescolanza. E anzi, quando i corinzi devono affrontare un problema, una calamità, una situazione di crisi, la colpa viene affibbiata ai colchi, quindi Medea fa davvero il proprio capro espiatorio. Se a Corinto si verifica un terremoto, la colpa è della strega Medea. Se a Corinto si diffonde la peste, la colpa è di Medea. Questo tema viene affrontato in maniera molto diretta, senza mezze misure e in maniera molto potente, molto schietta. E' un tema che ci riguarda da vicino e mi è piaciuto tantissimo il modo in cui l'autrice ha usato il mito per affrontarlo. In secondo luogo, questo romanzo è un romanzo femminista, perché Medea, oltre ad essere straniera, è anche una maga, ma è soprattutto una donna. Ma sappiamo che nell'antica Grecia le donne rivestivano un ruolo che era assolutamente subalterno rispetto a quello del uomo. La civiltà greca era una civiltà maschilista. Medea invece proviene da una civiltà diversa, una cultura diversa, da una cultura ancora in parte materialcale. e di conseguenza Medea cammina per la città da sola con abiti sgargianti, con abiti colorati, usa portare i capelli sciolti, osa parlare in maniera irriverente e ridere in maniera sguagliata di fronte agli uomini. Quindi una donna indipendente, una donna autonoma, una donna che fa paura e che di conseguenza viene considerata come un pericolo, viene considerata come una belva da domare, da tenere sotto controllo, da escludere. Un romanzo quindi davvero molto denso, che mi è piaciuto tanto, anche per il modo in cui è scritto. Innanzitutto il titolo Medea Voci allude proprio alla struttura, a come è strutturato questo romanzo. Si conserva un po' diciamo il carattere teatrale di questa storia, nel senso che non c'è una voce narrante che ci descrive la vicenda, che ci descrive l'azione da un punto di vista interno o esterno che sia. Ma i capitoli, i capitoli che costituiscono questo libro, sono costituiti da dei monologhi pronunciati da diversi personaggi, quindi ascoltiamo la voce di Medea, ascoltiamo la voce di Giasone o quella dell'astronomo di corte, della nutrice di Medea. Quindi ogni capitolo è costituito appunto da un monologo, da una sorta di flusso di coscienza e i fatti ci vengono raccontati di volta in volta dal punto di vista di un personaggio diverso. La vicenda quindi non è descritta in maniera lineare, da un punto A ad un punto B in maniera lineare, perché si va avanti e indietro nel tempo a seconda di come i fatti ci vengono narrati dai vari personaggi e soprattutto dai diversi punti di vista attraverso cui la storia ci viene narrata riusciamo a cogliere ogni volta dei dettagli nuovi o a ricostruire, a mettere a loro posto dei tasselli nuovi in modo tale da farci un quadro generale di come si sono svolti gli eventi e soprattutto capire effettivamente qual è la realtà dei fatti, perché appunto ogni personaggio ci racconta cosa è successo dal suo punto di vista, una visione parziale, quindi sta al lettore mettere insieme tutti i vari punti di vista e ricostruirsi un quadro coerente della vicenda. Quindi un romanzo che magari soprattutto all'inizio non è immediato, nel senso che ci si deve far trasportare dalle voci che compongono questo romanzo in modo da poter capire che cosa effettivamente è successo. Anche la scrittura è sicuramente di grande qualità, caratterizzata da una prosa raffinata, elegante, con periodi molto ampi, ricchi di subordinate, un linguaggio quindi non immediato ma notevole. Insomma, non so più come dirvi che questo romanzo davvero mi è piaciuto tanto da tutti i punti di vista. Innanzitutto sono un'amante del mito, della cultura classica, della cultura antica. Mi è piaciuto come è stata rivisitata la storia di Medea, come è stata riscritta e appunto anche la scrittura, la prosa dell'autrice, sicuramente anche merito della traduzione, ovviamente merita. Quindi, libro che mi è piaciuto tanto, uno dei libri migliori letti fino ad ora, ve lo consiglio tantissimo se ancora non lo avete letto. So che l'autrice ha riscritto anche il mito di Cassandra, quindi a questo punto io ci farei un pensierino. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui e spero di avervi invogliato a leggere Medea di Krista Wolf. E se già l'avete letto fatemi sapere, mi raccomando, che cosa ne pensate nei commenti. Già che ci sono, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se anche voi vi interessate di libri, di letteratura in generale, siete nel posto giusto. Quindi cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. E se vi va, seguitemi su Instagram, il link lo trovate sempre qui sotto nell'infobox. Io mando come sempre a tutti un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento prestissimo al prossimo video. Ciao!